Allora, andiamo sull'ospedale, sulla polemica in atto, il pavimento, sindaco, che cosa è successo il 16 di aprile quando avete fatto questo sopralluogo? Ci puoi spiegare bene? Bisognerebbe cambiarlo, sovrapponere il pavimento esistente con un altro, insomma, spiegaci meglio. No, niente di particolare, è che c'è chi vuole fare polemica, ha trovato una cosa per fare polemica e ha fatto polemica. Potrei dire semplicemente che, dato che l'arrivo dei medici, come ho detto anche, necessitava di un'altra settimana, e dato che era possibile implementare e completare i lavori con la messa in opera del binolium, di questa nuova pavimentazione, che certamente è di qualità superiore, l'AC l'ha deciso, e noi eravamo presenti là quando discutevano di questo, in attesa dei medici di fare anche questo lavoro. Visto che l'ospedale non poteva essere aperto perché stanno completando i turni. Meglio che in questa fase aggiungono anche una pavimentazione nuova e all'avanguardia che non fare niente e rimanerla così chiusa. Non ci vedo niente di partito farmente strano. Poi, naturalmente, chi è rimasto alla finestra a guardare questi giorni quello che succedeva e chi è voluto mettere l'azione della scena politica, ha ritenuto probabilmente fare polemica e mettere in campo una confusione inutile che non serve a nessuno. Quindi il consiglio di installare questa nuova programmazione, pavimentazione, è arrivata dall'ASL? Ma che domanda è? Ma perché chi la poteva fare? Potevo farlo io? Io sono un tecnico dell'ASL? No! Io sono un sindaco che, diciamo, segue le attività dell'ASL, cerca in qualche modo di spingere politicamente perché le cose viaggi di maniera normale, ma non sono certo io un tecnico, non sono certo io quello che autorizza la spesa, non sono certo io posso fare una pressione politica come sto facendo tutti i giorni, con una presenza, con una costanza, con il telefono, con la discussione con i primari, con gli interlocutori politici a cui posso rivolgermi per fare in modo che la mia città si era per l'ospedale. Questo è il lavoro che ho fatto e questo è il lavoro che può fare un politico sulla scelta tecnica di mettere o non pavimento, non spessa certo a me, spessa ai tecnici dell'ASL. Forse qualcuno intentando di fare polemica ha voluto attribuire poteri al sindaco di Agropoli di stabilire se ti fa una finestra, se ti mette o non ti mette una forza. Penso che il sindaco non ha né la competenza tecnica per deciderlo, ma neanche il ruolo per poterlo fare. E' uno spettamente tecnico. Ma nel piano iniziale non c'era questa previsione, perché arriva da dopo? C'è un architetto che ha programmato tutti i lavori? Non era previsto questo? Ma io penso una cosa diversa. Io penso che quando si fanno i lavori in emergenza non c'è una programmazione certa. Si cominciano i lavori e i lavori sono stati fatti, io li ho seguiti per step. Perché prima l'indicazione che era arrivata dell'ospedale di Agropoli era quella di un utilizzo total covid. Quindi togliere il fondo soccorso, togliere il reparto di medicina e fare un ospedale tutto covid. Lì hanno trovato la nostra opposizione, la mia e di chi mi ha aiutato su questo percorso come il sindaco di Capaccio, dove abbiamo detto ma perché dobbiamo fare tutto covid. Ci sono ampi spazi nell'ambito di questa struttura per fare covid e per conservare quello che c'era dentro. Quindi rispetto a una prima indicazione di massima, quindi un primo progetto, noi siamo opposti, questo posso dirlo, un'opposizione politica non tecnica, dove lì ci hanno voluto ascoltare e hanno cambiato individentemente in corsa quella che era l'idea progetto, delle modifiche che sono state fatte. Quando hanno emergito delle modifiche, si sono resi conto che c'erano dei problemi oggettivi sulla tipologia di modifiche. Hanno cambiato due barra tre volte i percorsi per tutta una serie di motivazioni tecniche. Hanno spostato delle parti da un'ala all'altra. Quindi non si può dire che c'era un progetto a monte che poi è stato modificato alla fine. Il progetto si è evoluto nel tempo in base alle esigenze che venivano fuori. Le esigenze che venivano fuori sia sulla base di una valutazione dei lavori mentre proseguivano, sia sulla base delle esigenze che sono cambiate. Vi ho detto qual è stata la prima idea e qual è stata la seconda idea. Quindi non c'era un progetto sullo quale si è completato, si sono fatti i lavori settimana dopo settimana, dove i tecnici sono aggiornati e hanno cambiato mano a mano le aspettative. Quindi prima si era pensato un numero di posti letto che andasse, che fosse superiore a circa 80 inizialmente. Poi questo numero si è dimensato perché non c'era la capacità di personale di poterlo fare. Quindi chi pensa che è stata una cosa semplice e non si rende conto che invece lo sviluppo della progettazione è andata avanti settimana dopo settimana con grandi meni dei tecnici e con necessità di modificare continuamente alcune scelte sulla base di quello che succedeva anche in termini di organizzazione della sanità nella provincia di Salerno, non ha un quadro chiaro della situazione, se non sa bene cosa è successo e la spara, la butta lì. Non dà un contributo perché non sa quello che è successo. Quindi la mia sensazione è che c'è solo voglia di fare polemica, di creare confusione e mi dispiace molto perché non è questo il tempo della polemica. Non è questo il tempo della polemica. Non è questo il tempo della polemica. E mi dispiace che le opposizioni che sembra oggi siano state i vostri ospiti abbiano parlato solo in termini di polemica. Hanno fatto una proposta? Non credo. Non credo. E questo dispiace molto perché riteniamo di aver agito nella maniera migliore possibile, riteniamo di essere disponibili ad accogliere eventuali proposte qualora fossero arrivate ma non ne sono arrivate. Quindi la sensazione che abbiamo ricevuto è soltanto quella di polemiche. Credo che non sono utili e non ci aiutano e non ci aiuteranno. Concordio dice che il pavimento che c'è adesso non è omologato. Perché bisognerebbe mettere un altro pavimento? Allora ribadisco quello che ho detto prima. Il pavimento che c'è adesso è omologato ma è un pavimento di vecchia generazione. Cioè per intenderci quello con le mattonelle. Le mattonelle, io non sono un tecnico quindi mi esprimerò probabilmente meglio da sbagliata ma credo che ci faccia capire. Le mattonelle si possono facilmente rompere. Tra le mattonelle ci sono quelle fessure che creano sporcizia quindi la polizia è meno efficiente in questi casi e quindi potevano rimanere. Ma ribadisco e dico a Concordio, caro Concordio, la pavimentazione poteva rimanere anche quella che era. Qual è il problema? Nessun problema. Avevamo da attendere una settimana inutilmente perché comunque i mezzi non sarebbero arrivati per una settimana. l'altra correttamente decide di fare ulteriori investimenti, di migliorare la pavimentazione, di renderla quindi più sicura, più efficiente. Io quando ho sentito questo, io penso il nome della mia città, ho detto va bene, se questo non rallenta le operazioni di apertura e ci dà una cosa in più, buono che la facciamo. Fate bene a farla. Cosa avrei dovuto fare? Cosa avrebbe fatto la posizione agrofa? No, ferma! Non la voglio la pavimentazione nuova, voglio che rimane quella vecchia. E dai. No, vabbè, la preoccupazione sindaco è che si rimanda sempre questa apertura tanto annunciata. Insomma, si ha paura che poi slitterà sempre di più. Ecco, questo è che in realtà è la preoccupazione dei cittadini. Che cosa puoi dire? Che tra una settimana si apre? che è legata all'arrivo dei medici. La povera pavimentazione. Cioè, allora, la polemica si è fatto come se la pavimentazione in qualche modo avesse rimandato, che poi qua non siamo stupidi, come se la pavimentazione in qualche modo avesse rimandato l'apertura, come se qualche politico da dietro avesse utilizzato la pavimentazione per rimandare l'apertura quasi come se non si volesse l'apertura del covid ospita, no? È chiaro, no? Questa è una bugia, questo è solo un modo di fare polemica e questo secondo me non ci aiuta rispetto all'obiettivo che abbiamo di vedere l'ospedale riaperto. Il pavimentazione nuova è la cosa in più buona che l'hanno fatta e che rimarrà anche per il futuro, visto che c'era la possibilità di poterla fare, c'era la vista gialla pronta per cominciare i lavori, quindi si è potuta fare bene che si è fatto, ma i tempi sostanzialmente non si sono persi, li abbiamo soltanto utilizzati, perché in una settimana che nessuno ci sarebbe andato, ora c'è una vista che sta mettendo il pavimento nuovo, punto.